Ci scommetto che in padella un piccione avete messo con il suo biglietto espresso. In questo momento la cosa più importante è la parola punto e basta. Nella sua semplicità infantile mi interessa la scoperta della rima, la creazione della rima. Sai cosa è? È che non dobbiamo ragionare con la testa degli adulti. No, no. Buonaventura, vieni! Usalo uno o due volte, non di più. Usalo uno o due volte. Usalo uno o due volte, non di più. Grazie a tutti.